Ciao ragazzi, sono Marco e questo è il T-Ossigeno, la rassegna green di Radio Immaginaria, dove vi parliamo di natura, ambiente e animali. Oggi sono qui per raccontarvi una notizia positiva e una negativa. Cominciamo con la notizia positiva. Un gruppo di scienziati, basato sulle più recenti ricerche, ha dichiarato che il periodo tra il 2021 e il 2030 sarà il decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi. Infatti stanno effettuando numerose ricerche sulle sementi che ormai non sono più tanto comuni per ripopolare le foreste e tutti i vari ecosistemi o da evitare che spariscono del tutto. Ora purtroppo vi devo dare una notizia negativa. La notizia negativa di oggi riguarda gli abitanti dei boschi e delle foreste che purtroppo ultimamente sono stati costretti a spostarsi, a costruire le loro nemmeno nei boschi. Perciò i poveri animali si devono spostare di notte. Queste erano le due notizie di oggi. Quella positiva riguardo al ripristino degli ecosistemi, quella negativa riguardo agli abitanti delle foreste. Da Radio Immaginaria è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!